Più di 50 aziende, di cui 5 da fuori regione, è un'etichetta francese di champagne. In estrema sintesi sono i numeri della 19esima edizione del Pescara Wine Festival, premio alle eccellenze del vino organizzato dall'Associazione Sommelier Abruzzo. La consegna dei riconoscimenti, una ventina, sabato pomeriggio nella sala consigliare del Comune pescarese. L'edizione dello scorso anno fu quella della ripartenza, quella di quest'anno, conferma la qualità del vino abruzzese, come sottolinea il delegato AIS di Pescara, Luca Panunzio. Noi andiamo forte, andiamo forte con una qualità crescente e anche con dei particolari accattivanti. Dietro il pecorino, che è il pubblico europeo, quindi fuori Italia, hanno questa curiosità del nome, e c'è comunque tutto un traino di esport che tira. Naturalmente lavorano sempre quelli più bravi, quindi è chiaro che c'è proprio una voglia di fare qualità che aiuta. Se il festival intende premiare gli sforzi fatti negli anni dai viticoltori abruzzesi, figura importantissima è quella del Sommelier. Circa un migliaio in Abruzzo, come spiega il neopresidente regionale AIS, Angela Di Lello. Sì, la nostra associazione, devo dire, è riconoscita a livello nazionale e mondiale, il che ci onora e sicuramente quando abbiamo l'opportunità di parlare del vino, lo facciamo con tanta passione e tanto clamore, nel senso che siamo comunque veicolo per le aziende di promozione turistica e promozionale della regione stessa. Quindi ci onora avere questo ruolo e difenderemo al meglio questa posizione. Oltre a diversi sponsor privati che hanno assicurato le risorse economiche e l'iniziativa, la regione ha da sempre assicurato la sua vicinanza, anche perché il vino racconta storie e tradizioni, ma anche altro. Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale. Vino significa anche tutela del territorio? Assolutamente sì, se pensi che noi abbiamo legiferato affinché le energie rinnovabili, nuovi impianti che arrivano, che vanno agevolati, però da una parte abbiamo permesso che le aree industriali potessero mettere più rinnovabili abbattendo i tempi burocratici, ma anche dall'altra parte abbiamo chiesto che se dobbiamo mettere tre paleoli, che non dobbiamo smontare un paesaggio che è lì da duemila anni e che ci porta tanta economia di persone che vengono qui per vederlo, visitarlo, camminarci ed assaggiare il nostro vino.